Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata del podcast Strategia Digitale. Oggi parliamo di come si crea un logo efficace e lo facciamo con l'aiuto di Bob, al secolo Giuseppe Liuzzo, noto youtuber ed esperto di comunicazione visiva, nonché docente di brand identity all'OIED, Istituto Europeo di Design. Prima però di ascoltare i consigli di Bob su come creare un logo efficace, scopriamo insieme chi è lo sponsor di oggi. E il nostro sponsor di oggi non poteva essere se non un servizio che ha a che fare con la creazione del logo. Sto parlando di 99designs. Che cos'è 99designs? è un sito che ha rivoluzionato totalmente l'idea di come si crea un logo. Perché fino all'altro ieri, se dovevi creare un logo, dovevi andarti a cercare un grafico, uno studio grafico, una società che progettasse per te quel logo. Ma visto che online moltissimi business sono nati con anche modestissime risorse, poco budget da investire nella creazione del logo e nella comunicazione visiva, come posso conciliare la mia esigenza ad avere un logo, a cominciare a creare un brand per il mio progetto, se il budget che posso investire non è molto o se non ho voglia di spendere risorse e tempo a cercare il designer che fa per me, la risposta è 99designs. In pratica tu vai sul sito, scrivi un tuo brief creativo attraverso una procedura guidata dove ti vengono proposte centinaia di loghi diversi e tu scegli quali sono quelli che ti piacciono di più per far capire al sistema questa intelligenza artificiale di 99designs quali sono i tuoi gusti in fatto di comunicazione visiva. E dopo aver creato questo brief creativo, avendo aggiunto il testo che deve essere scritto sul logo, delle indicazioni, magari avendo allegato l'immagine del tuo logo precedente che vuoi rifare, puoi scegliere un pacchetto, quindi sai subito quello che spendi. Ci sono vari pacchetti a seconda del livello professionale dei designer che saranno invitati alla gara per il tuo logo. Dopodiché la gara viene lanciata e possono partecipare designer da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dall'Italia, dal Giappone, dall'Europa dell'Est, dovunque ci sono designer, lì può arrivare il tuo logo e questi designer possono partecipare inviandoti decine di proposte. Direi anche centinaia, l'ultima volta che ho fatto un contest abbiamo ricevuto 174 diverse proposte. Ora ti immagini ricevere da più o meno un centinaio di designer diversi 174 proposte diverse, cioè poter scegliere tra 174 loghi, versioni del tuo logo, è una ricchezza che naturalmente non ha uguali nel mondo tradizionale. Quando vai a farti sviluppare un logo da un designer è quello che ti darà 5 alternative, 10, 20 se sei fortunato. In più puoi interagire con questi designer, puoi lasciare il tuo feedback, dare a loro delle indicazioni perché possano nel tempo della gara farti altre proposte, modificare i loro loghi, capire meglio in che direzione vuoi andare, perché poi ogni logo è una storia a sé. Infine sceglierai il tuo logo preferito e pagherai direttamente solo per quel logo lì, quindi avrai il massimo del risultato al minimo del costo. Per scoprire come funziona 99designs vai su youmediaweb.com 99designs. Ma ora ritorniamo a noi e chiediamo direttamente a Bob che insegna queste cose ogni giorno come si crea un logo efficace. Allora, un logo efficace non esiste. Un logo è efficace quando rispecchia i valori dell'azienda, del prodotto che intende promuovere, che intende comunicare. Per essere efficace un marchio prima di tutto deve raccontare una storia. L'unica esigenza dell'essere umano è quella di sentirsi raccontare delle storie uniche. Un logo deve essere identificativo dei valori di un prodotto, quello che vuole comunicare. Faccio un esempio cretino. Il marchio di Obama, presidente degli Stati Uniti d'America, non so se ce l'hai presente, è una O con il sopra blu e sotto le lineette molto a bandiera americana rosse. Quel marchio, nella sua semplicità estrema, racconta una storia molto forte, perché sembra un sole che sorge su dei campi di grano. E nel frattempo è una lettera O, che è l'iniziale del presidente, del cognome del presidente Obama, e ovviamente riporta i colori degli Stati Uniti d'America della bandiera. Una storia semplicissima, una nuova alba sugli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America, noi siamo abituati a vederli con i palazzoni New York, Los Angeles, Chicago, ma per il 90% sono campi di grano, campi agricoli. Se tu voti Obama, ci sarà una nuova alba su questo paese. Un marchio che racconta una storia e i valori che intende promuovere quel prodotto. In questo caso quel prodotto si chiama Obama come presidente. Quindi un marchio efficace lo è quando racconta i valori della tua azienda, ne esalta le particolarità, la missione, non troppo dettagliato, perché ricordiamo la famosa regola odiosa, less is more. Purtroppo questa frase è diventata orrenda, ma è vero. La semplicità. La semplicità è la cosa più complicata da ottenere. Un marchio è sintesi, ma non sintesi grafica, sintesi estetica della bellezza, ma sintesi appunto dei valori, della storia che tu intendi raccontare e della mission che il tuo brand vuole portare a compimento. Quindi un marchio per funzionare, per essere efficace, non c'è una regola base. Il marchio si fa in cinque minuti. Tutto quello che sta dietro al marchio ci vuole molta ricerca sulla sintesi, sulle forme, sui colori, sulla praticità di utilizzo. Un marchio per essere efficace deve raccontare una storia. I consigli di Bob sono stati davvero molto molto interessanti. Ecco, questi due elementi fondamentali. Da una parte la semplicità e la utilizzabilità del tuo logo è fondamentale. Proprio l'altro ieri arriva una mia cliente tutta contenta. Ah, guarda, mi sono fatta creare un logo. Mi fa vedere un cerchietto con delle sfumature colorate. Dico, ma che è sta cosa? No, perché l'idea sono degli eventi che si fanno all'alba, quindi il sole, l'aurora... Cioè, non si capiva. Ma poi se lo devi stampare in bicromia, come fai? Allora, è importante che il logo sia semplice, sia leggibile, non sia incasinato. Io, per esempio, per vedere sul logo si vede, anche da lontano, si vede, anche se stampato molto piccolo, utilizzato come avatar per la tua pagina Facebook, che cosa faccio? Faccio un test, inquadro il logo sul mio schermo, dopodiché socchiudo gli occhi e mi allontano leggermente. Se in quell'atmosfera sfumatina che ti danno le ciglia che si chiudono, per cui la tua visibilità viene ridotta, riesci a riconoscere il logo, a vedere che cos'è, ma soprattutto se dentro la testa ti scatta un click quando vedi il logo e capisci immediatamente che cosa rappresenta, qual è la storia che racconta, allora il logo è leggibile. Se lo puoi stampare, se lo puoi disegnare, ecco, un altro test che faccio a volte è questo, do un pennarello nella mano del mio cliente e gli dico ora disegnami questo logo che ti sei fatto creare, che stai tanto contento di aver creato, disegnalo su un foglio con un pennarello. Se non riesci neanche a dare un'idea di quello che c'è nel logo, se fai una cosa troppo incasinata, vuol dire che gli elementi sono troppi, addirittura se dimentichi degli elementi vuol dire che non erano importanti. Per cui in questo senso veramente less is more, quindi meno è più, meno ci metti, più rendi visibile il tuo logo, più rendi leggibile il tuo logo non incasinandolo, meglio è. Il secondo elemento è il racconto della storia, questo è molto molto importante, perché poi tutta questa cultura della comunicazione visiva, sì, la brand identity, la nostra mission, la nostra vision, porta a volte delle supercazzo le infinite. Ma qual è la storia che sta dietro il tuo business? Cioè qual è l'elemento più importante, quello che ti deve far ricordare? Un po' di tempo fa viene una persona a raccontarvi il suo business, abbiamo avuto una chiacchierata, ora a grandi linee si occupa questo business di incoming, quindi il suo obiettivo è far sentire le persone a casa, dovunque le persone viaggino, quindi viene il turista giapponese a Roma, si deve sentire a casa. Si deve sentire a casa attraverso i servizi offerti da questa società che mette in connessione le persone, i turisti con le persone del luogo, gli fa scoprire i luoghi da visitare, i posti dove mangiare. Ok, tutto bello. Che cosa aveva scelto come logo? Attenzione, tieniti forte, un marziano, un marziano, cioè il marziano, l'extraterrestre è colui che mi rappresenta il sentirmi a casa? No Giulio, perché sai che l'extraterrestre è la persona che sta al di fuori dal contesto per cui noi facciamo sentire a casa anche l'extraterrestre? Sì ok, ma questo lo stai dicendo tu, non è che esce fuori dal logo. Quindi è importante che il logo funzioni, si capisca, e per questo è un'estrema benedizione se hai una tua community di persone, delle persone che seguono le tue attività alle quali far vedere il logo e chiedergli ma che cosa vi suscita? Cosa esprime? Cosa ci vedete dentro questo logo? Ma è Gaudiano, ho capito, faccio due o tre alternative, le mando in un bel sondaggio su Facebook e il gioco è fatto. E no, caro mio, così la vita è troppo semplice. Non devi far scegliere agli altri il logo, devi capire che risonanza ha negli altri. Il logo è sceglierlo tu, quindi devi chiedere feedback, utilizzare questi feedback per interpretare che cosa viene attivato dal tuo logo e poi decidere in maniera totalmente autonoma perché non è detto che la maggioranza abbia ragione, non è detto che la maggioranza delle persone che seguono la pagina Facebook siano poi rappresentative di quelle che sono i tuoi reali clienti, che sono coloro ai quali indirizzi la tua identità visiva. Una cosa bellissima che mi ha detto Bob durante l'intervista è il logo non è arte, il design non è arte, il design serve a far vendere, a farti vendere più mucche, più pecore, più sacchi di patate. Quindi, se è vero che il design deve farti vendere, è anche vero che l'unico che può capire qual è la miglior strada da seguire per vendere attraverso la comunicazione visiva non può essere nessun altro se non tu stesso. E allora grazie mille Bob per averci chiarito un pochino le idee su come si crea un logo efficace e grazie anche all'Eox 1994 Team che ha lasciato una sua recensione sul nostro podcast. È uno di voi, uno che ascolta il podcast ma non solo lo ascolta, vuole anche dare un contributo per dire che cosa ne pensa e in che modo il podcast aiuta il suo business e la sua vita quotidiana. Il titolo della recensione è Una grande idea e un servizio di qualità. Ringrazio Giulio per aver creato questa rubrica che mi sta aiutando e supportando per capire molti concetti e trovare idee di business. Complimenti a tutti e complimenti a te, Leox, perché devo dire non è facilissimo lasciare una recensione. Mi sono accorto che nonostante io dica ci vogliono 30 secondi per lasciare la recensione in molti anni difficoltà, soprattutto a lasciarla dall'applicazione mobile. Quindi ragazzi, se volete farci sapere che cosa ne pensate del podcast Strategia Digitale, aprite iTunes, cercate il podcast nella buchetta di ricerca, dopo di che andate su valutazione e recensione e lasciate, scrivete la vostra recensione, ci fa piacerissimo leggerla, ma ci fa piacerissimo anche ricevere i vostri messaggi via email a strategiadigitale chiocciola umediaweb.com o sul nostro canale Telegram al quale potete iscrivervi che è Strategia Digitale, quindi telegram.me slash strategiadigitale o se volete voi parlare telegram.me slash giulio gaudiano. Per oggi è quasi tutto, ma prima di salutarci il souvenir digitale. Il souvenir digitale Il souvenir digitale Il souvenir digitale è una tecnologia, un software, una app, un gadget tecnologico o qualsiasi altro genere di contenuto che possa cambiare in meglio la tua vita e il tuo business del mondo digitale. Oggi voglio parlarti di Font Candy Plus. Che cos'è questo Font Candy? Cercavo un programma che mi permettesse di creare quelle immagini che si vedono sui social molto spesso con una foto di sfondo e sopra del testo scritto magari la citazione di una frase di un personaggio celebre oppure una frase che metta a fuoco un concetto. Mi sono lanciato quindi alla ricerca di un'applicazione simile ne ho trovata una molto carina e l'ho acquistata per credo 3 euro o poco più si chiama Font Candy Plus in pratica puoi partire da foto che sono memorizzate nel tuo rullino te la puoi scattare in quel momento puoi utilizzare delle foto che l'applicazione ti offre o addirittura delle foto che ti permette di trovare pubblicate online sotto licenza Creative Commons e scriverci sopra con tantissimi font differenti regolando in maniera molto semplice e intuitiva con le tue manine sullo smartphone la grandezza del testo i vari elementi i colori le ombre insomma puoi fare tutte le operazioni di editing sul testo in maniera molto veloce direttamente dallo smartphone con un click e esportarlo e utilizzare quella foto per postarla su Facebook o sui social media te lo consiglio veramente perché può essere uno strumento interessante per fare comunicazione visiva e marketing sui social lo trovi naturalmente linkato nelle note dell'episodio siamo arrivati alla fine io ringrazio come sempre Sara Veltri quotrice del programma il fonico Costanza Mineo e il radiospeaker.it curatore del nostro sound design per oggi è tutto ciao e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano a cura a cura un po' Grazie a tutti